Ecco il momento che tutti aspettavate dai Marvel Studios Black Widow. Godetevi questo look speciale. Ho vissuto molte vite, ma non voglio più fuggire dal passato. Sono stata un'assassina, una spia, un Avenger. Prima di tutto questo, avevo una famiglia. Abbiamo dei conti in sospeso. Combatteremo con te. Stai bene? Grande piano. Soprattutto la parte dove per poco muoio di san l'ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti